Ciao amici di Bet Italia Web, bentornati a una nuova puntata di Sportusa News & Tips, anche oggi video puntata, abbiamo molto di cui parlare per l'MLB, anche se ci sono in programma solo 9 partite, 3 delle quali in prima serata o nel tardo pomeriggio, decidete voi italiana, si inizia per esempio alle 18.10 con Matt Spadres, di cui parleremo, però come al solito prima un passo indietro, andiamo a vedere la giornata di ieri, dopo due giorni davvero ottimi nelle nostre scommesse, avevamo dato 17 pronostici esatti e 5 soli sbagliati, ieri siamo incappati in un leggero passivo, abbiamo chiuso con un 5.6, per esempio la free pick era proprio sui mezzi vincenti, erano molto favoriti a 1.64 e l'abbiamo preso in saccoccia, però a pesare tanto sono stati i Braves, ieri ci sono costati due unità piene, li avevamo giocati in casa contro i Royals in run line a 2.10, li avevamo anche abbinati dei Phillies in doppia a 2.50, i Braves non solo non hanno coperto la run line, hanno perso 2.0 in casa contro i Royals, risultato inatteso, i Phillies invece hanno fatto il loro a Detroit contro il pessimo Zimmerman, quindi leggero negativo, oggi vi darò una free pick e c'entrano proprio i caldissimi Royals di questo periodo e ho analizzato anche 5 partite interessanti con alcuni spunti, vi ricordo come sempre, lo dico adesso e non lo ripeto più, che per tutte le analisi complete della free pick vi invito nel nostro canale Telegram Sport Usa News o nel nostro sito betitaliaweb.it, mentre per quanto riguarda tutti gli altri studi, conferme, pro bet, giocate eccetera eccetera, vi invito invece nel canale ProMLB su Telegram per entrare, contattateci, vi spieghiamo come fare, un piccolissimo investimento per un'estate di scommesse col baseball e magari di casse, vediamo oggi per voi, usciamo subito con una free pick, Royals-Indians, vittoria degli Indians si trova ancora intorno a 1.70, pensate un po' Royals e Indians, sono entrambi 8-2 nelle ultime 10 partite, però ovviamente Cleveland è una squadra superiore, ha una motivazione maggiore visto che si gioca la division con Minnesota, sta recuperando mentre Kansas City è ultima in questa division, Cleveland lo ha dimostrato sul campo, ha vinto 6 delle ultime 7 sfide con Kansas City, il periodo d'oro dei Royals spero si vada a fermare, quindi vado sulla tribù che schiererà Adam Plutko che la settimana scorsa proprio contro Kansas City ha giocato 7 solidissimi inning con una sola rana e due valide concesse, peccato che non è arrivata la vittoria di Cleveland, Plutko non è stato supportato dal proprio attacco, dall'altra parte Mike Montgomery è arrivato da Chicago, dai Cubs ha esordito anche lui nella serie della settimana scorsa contro Cleveland, lui è andato un po' peggio, ha concesso 5 run in appena due inning, Cleveland abbiamo detto maggior motivazione, ieri ha vinto 4-0 a Toronto, io lo appoggio anche oggi, Moneyline intorno a 1.70 sono i miei favoriti di giornata. Ora andiamo con le 5 analisi che ho fatto, partiamo proprio dalla partita delle 18-10, Mets, Paydress, Mets nettamente favoriti come vedete dalle quote a 1.47, linee over under mi spavento un po' perché è a 7.5 e perché mi spavento un po' perché Jacob DeGrom al via, è il DeGrom dei, lo sapete, ovvero under nei primi 5 inning che è la giocata calda che facciamo sempre con DeGrom, ora oggi bisognerà vedere, io spero di avere una linea in F5 almeno sulle 4 run. Dicevamo DeGrom arriva da una prestazione contro San Francisco in cui ha concesso 0 run, 3 valide, ha messo a segno 10 strike out in 7 inning, non ha concesso più di 2 run negli ultimi 11 start, questo non è vero, ho sbagliato a scrivere perché contro Atlanta ne ha concesse 3, unica volta negli ultimi 11 start in cui ha concesso più di 2 run agli avversari, si traduce in un 0,96 era, inoltre DeGrom ha un 1,79 era in 7 start in carriera contro San Diego, a maggio Petco Park ha concesso 2 run in 7 inning, solidissimo, la partita si era chiusa 4-0 se non sbaglio, dall'altra parte qualche problema in più con Eric Lauer, 5 run in 4,2 inning nell'ultima uscita contro i Caps, gioca meglio a Petco Park, oggi è in trasferta, la linea è bassa, staremo a vedere se confermeremo il DeGrom Day con l'Under F5, intanto ieri è entrato il Bibier Day a proposito di pitcher su cui con trend importanti intorno all'80% o superiore di Under F5 nelle ultime partenze, Bibier lo abbiamo scommesso ieri con i già citati Indians che hanno vinto 4-0 a Toronto e ci ha fatto incassare con l'Under F5, vedremo se confermare quando uscirà la linea anche questo. Andiamo a Washington perché rientra Mad Max, Max Scherzer, prima dell'infortunio aveva giocato 9 start abbastanza dominanti, 7-0 con 0,84 era e 94 strikeout messi a segno, dall'altra parte il confronto è impietoso perché torna Jeff Hoffman per i Rockies richiamato dalla AAA, l'ultimo start di giugno, in carriera è 0-2 con 5-73 era contro Washington, che dire, i Rockies sono caduti in un crollo totale, sono 1-9 nelle ultime 10 partite, 3-16 nelle ultime 19, solo i Mets hanno perso più partite di Colorado in trasferta in National League, ovvero 31 sconfitte per i Rockies, ovviamente oggi la quota dei National è davvero bassa, 1-34 i Rockies si giocano a 3-35. Il big match di giornata è però un altro ed è quello di Boston, Red Sox-Yankees, se non sbaglio l'ultima volta che si sono affrontati erano alle London Series, lo spettacolo delle London Series, anche oggi i Red Sox giocano in casa ma sono leggermente sfavorite a 2-0-5, gli Yankees a 1-80, la linea over-under molto alta a 11, ma vedremo perché, a parte lo spettacolo delle London Series, vedremo. New York al momento è avanti 10 partite su tampe, 11 proprio su Boston nella corsa in AL Est, oggi partirà Masashiro Tanaka che è imbattuto da 7 start, anche se non è stato proprio solidissimo, inoltre 8-4 con 4-82 era in carriera contro Boston, il giapponese ha concesso però ben 6 run in 2,2 inning il mese scorso contro i Red Sox, per Boston ci sarà però Rick Porcello che ha concesso 6 run e 11 validi in 5 inning a Baltimore, davvero pessimo, Porcello è 10-57 era negli ultimi 5 start, come se non bastasse ha concesso 6 run in 0,1 inning a fine giugno contro gli Yankees, ecco perché è spiegata la linea così alta tra Tanaka e Porcello in questa sfida con i due migliori attacchi della MLB come run segnate, gli Yankees sono arrivati a produrne 588, i Red Sox sono subito dietro a 582, quindi ecco spiegata la linea alta, un altro conto sarà vedere se giocare effettivamente o meno questo under, questo over scusate. Passiamo a Chicago, White Sox Twins, ne voglio parlare perché partono due interessanti pitcher, i White Sox partiranno con Lucas Giolito, ha concesso una run in 6,2 inning nell'ultima uscita a Tampa, rimane il quarto miglior pitcher come rendimento nelle scommesse, va però detto che i White Sox da dopo l'All Star Game hanno tenuto un record di 3,10 e dall'altra parte ci sono i Twins che cercano vittorie, cercano riscatto, partiranno con Giuseppe Rios, in 11 trasferte quest'anno sta tenendo un discreto 3,72 era, in carriera contro i White Sox ha ottimi numeri, 8-2 con 2,21 era, in stagione due sfide già contro i Calzini Bianchi ha tenuto un 1-1 con 2,57 era. Berrios però ultimamente è un po' calato anche nei rendimenti delle scommesse, lo abbiamo visto per i primi mesi sempre in top 10, è crollato al 116 posto, team record di 12,8 per un più 74 dollari rispetto al team record di Giolito di 13,6 che è valso quasi un millino, un cappino agli scommettitori che sono rimasti da inizio stagione sul carro di Lucas Giolito. Oggi vedremo, la quota sui White Sox è bella alta, ma come detto motivazione tutta per i mini. Chiudiamo con la sfida di Oakland, Athletics Rangers, in teoria dovrebbero vincere gli Athletics, era una partita su cui volevo scommettere, poi sono andato a vedere un attimo la quota, mamma mia, 1,57 è veramente bassa. È vero che partirà Brett Anderson per gli Athletics, è 2-0 con 2,36 era nelle ultime quattro uscite, in stagione ha tenuto i battitori di Texas ad un misero 204 di media, dall'altra parte Rangers in difficoltà in questo momento, partirà Hurado, Ariel Hurado, che è 0-3-8-31 era questo mese, Hurado ha concesso 16 rune e 24 valide nelle ultime quattro uscite per un totale di poco più di 17 inning, i numeri tremendi di Hurado non finiscono qui perché in due sfide lo scorso anno contro Oakland ha tenuto un 12,79 era. in attacco però note poco positive per entrambe, per esempio Texas il leader degli home run 22 fuori campo, Joey Gallo non dovrebbe essere in campo, mentre per gli Athletics Chris Davis non è in un buon momento, è 1-16 nelle ultime quattro partite in battuta e in stagione contro Texas ha sempre faticato con un 6-37. Io vi ringrazio dell'attenzione anche oggi, speriamo di sbancare, come al solito veniteci a trovare nei nostri canali Telegram, questo per esempio Sport Usa News è il canale gratuito dove mettiamo le nostre free pick, le notizie più importanti, le statistiche, tutti i nostri report, le giocate di Morfeo e Noverander eccetera eccetera eccetera. Io vi ringrazio, buone scommesse, buona giornata a tutti e puntate sempre con la testa, ciao!